Tutti oggi parlano del caso Cucchi di nuovo per la decimillesima volta, quindi puntata 7000, spiegone, velocissimo. Chi è Stefano Cucchi? Questo qui è Stefano Cucchi. Fu arrestato sette anni fa, nell'ottobre del 2009, perché in possesso di sostanze stupefacenti è portato in una caserma dei carabinieri, prima tappa di un peregrinaggio lunghissimo in varie strutture dello Stato, nelle mani del quale è stata per sei giorni, sino alla sua morte. Quella di Stefano Cucchi è una delle storie più tristi d'Italia, tra intercettazioni nelle quali le forze dell'ordine parlano di pestaggio, pestaggio che avvenne dopo soltanto sette anni. Pare questa cosa sia più o meno assodata a medici e agenti di polizia penitenziale che vengono assolti e accuse che si rimpallano continuamente, giornalisti che ne parlano a palla, fino all'accusa ai carabinieri, che portano il ragazzo in carcere, ora appunto considerati forse responsabili della morte di Stefano, perlomeno accusati di essere irresponsabili o corresponsabili. Il processo, come tutte le cose in Italia, ennesimo segno delle divisioni profonde che caratterizzano la società nel nostro paese, destra e sinistra, chi ha tanto e chi non ha nord e sud, nuove, vecchio, si e no, chi chiama gli amici zio e le persone serie, spacca l'opinione pubblica ulteriormente, tra chi chiede che il ragazzo, il quale cadavere era ridotto in condizioni spaventose, abbia giustizia e che quindi lo Stato punisca i colpevoli, se ce ne fossero, è di fatto chi cerca di portare avanti la teoria che il giovane sia morto da solo, perché è molto deperito, utilizzatore di sostanze e slash o spacciatore. Quindi di fatto, per molti, un povero drogato, che in quanto drogato, secondo il codice italiano di Facebook, Amurabi, meritevole di morte. Io, come sapete, ogni volta che si parla di forze dell'ordine o di qualsiasi altra cosa, in realtà mi trovo nella scomoda posizione di non avere una posizione predeterminata. Ho grande rispetto, in questo caso, per chi dedica la propria vita a fare il carabiniere, perché chi cazzo te lo fa fare, diciamoci la verità. Per quanto mi riguarda, i costi superano di gran lunga i benefici. E, se si sta facendo un discorso serio, ovviamente è innegabile che le forze dell'ordine siano un elemento necessario per vivere in una società ordinata e civile. Quindi, bandierina 1, sto con le forze dell'ordine. Ma, bandierina 2, sottoporre gli agenti a un controllo il più esterno e laico possibile è importantissimo, proprio perché questi servitori dello Stato funzionino bene. E, sia per me che per qualsiasi altro cittadino, dire sì, mi fido delle forze dell'ordine, sia possibile. Un paese nel quale un ragazzo, a prescindere da chi sia e da cosa abbia fatto, non sta a noi o al poliziotto giudicare un bel niente, non è un potere che mettiamo come società nelle mani di polizia e carabinieri, gli agenti li addestriamo a fare altre cose. Può morire un ragazzo, mentre in custodia dello Stato, non è uno Stato nel quale nessuno di noi vuole vivere, credetemi. Siamo sempre convinti, tutti quanti, di essere dalla parte giusta della società, ma a decidere quale sia la parte giusta non siamo noi, di certo, e non può essere, allo stesso modo, un gruppo di tizi armati di manganello. Quindi c'è questo, la premessona. I medici che hanno redatto il rapporto, che è soltanto una perizia, non una sentenza, non è legge, non è niente, ancora, dicono che la morte potrebbe essere legata, uno, a un attacco epilettico, che nulla ha a che vedere con le lesioni reportate da Stefano Cucchi, o due, alla complicazione della frattura indotta, che quindi non è successo a caso, non l'ha mandata a Dio, non è stato uno starnuto di una vertebra nella zona sacrale. Immaginatevi cosa può significare, che ha causato dei problemi successivi nella vescica, yada yada, complicazioni, complicazioni, morte. Sto ovviamente citando testualmente il rapporto medico, parola per parola. La cosa interessante, fanno notare moltissime analisi sui giornali di oggi, è che i medici parlano del fatto che, se ci fosse stato un intervento infermieristico, anche solo di controllo dello stato del ragazzo, Cucchi non sarebbe morto, probabilmente, ma allo stesso modo si sottolinea come in nessuno dei due casi sia possibile accertare che la morte sia sopraggiunta a causa del fatto che Cucchi sia stato gonfiato di botte, ipoteticamente, proprio da chi è invece pagato per proteggerli, i cittadini, ipoteticamente. E anche Cucchi era un cittadino, giusto per dire, anche i drogati sono cittadini. La butto lì. Un'altra cosa che nessuno si è premurato di sottolineare è che l'ipotesi epilessia viene prima descritta, e poi nella stessa perizia, specificato che è impossibile da documentare è priva di riscontri oggettivi, che si legge boh, alla fine è un'ipotesi, non abbiamo dati per dirlo, con buona pace del sindacato di polizia COISP, che si è affrettato a rilasciare dichiarazioni esigendo delle scuse da parte di un po' tutti. Un po' di cosa, hm? Il che non è strano, visto che ieri tutti i giornali dell'universo sottitolavano cose come Stefano Cucchi morto di epilessia. No? Piano? Quindi cosa succederà ora? Si aspetta. Perché contrariamente a quanto stanno gridando ai 420 tutti quanti, più vostra zia su internet che si straccia le vesti, non è stato deciso che Cucchi sia morto di epilessia. Chi difende i carabinieri chiederà l'archiviazione del caso, mentre la ormai nota sorella di Stefano Ilaria parla della possibilità di vedere finalmente qualcuno indagato per omicidio e non per lesioni. È una differenza importantissima perché se il processo dovesse muoversi ancora sull'accusa di semplici lesioni, l'anno prossimo tutto andrebbe incontro alla prescrizione e quindi non se ne farebbe più niente. Ma al contrario, gli omicidi non vanno in prescrizione, quindi aspettiamo e vediamo cosa decidono i tribunali. Nell'attesa, la vignetta di feudalismo e libertà in merita alla questione è semplicemente fantastica, mi ha fatto ridere, ma come in ogni caso, mai e poi mai leggere i commenti su Facebook. Parlando di altre cose interessanti, Google ha presentato il suo telefono, si chiama Pixel, l'aspetto è molto simile a quello di un moderno iPhone e in questo caso non è solo un telefono con Android, è proprio un telefono di Google, anche se fisicamente prodotto da HTC. quindi di fatto, a meno che non siate degli appassionati che si esaltano a leggere le specifiche tecniche dei telefoni, in questo caso molto buone, dal telefono in sé non c'è molto altro da dire, a parte che, come range di prezzo, siamo sulla stessa fascia degli iPhone, c'è il jack per le cuffie, ma soprattutto, il telefono è parte di quella che si delinea essere una nuova strategia di Google, che punta alla super compatibilità di questo e molti altri prodotti che ha presentato assieme al telefono. Un po' come fa Apple alla fine, ma in questo caso il comune denominatore sembra essere Google Assistant, l'intelligenza artificiale della compagnia più amata del mondo. A parte per Google+, quello non glielo perdono a nessuno. E per la gestione di YouTube negli ultimi anni. E per Project Glass, ma a parte queste cose, la compagnia più amata del mondo. Boom! Questo è Google Home, un coso del quale abbiamo già parlato, sembra un detenante per ambienti, invece è un coso, appunto, con delle casse, un microfono e una connessione a internet che permette di parlare con il proprio assistente virtuale anche mentre sia a casa, così possiamo fingere che in realtà a casa non giriamo con il telefono continuamente tra le mani. Non mentite, perché nessuno abbandona il... NESSUNO! Ok? Vuoi litigare? Ovviamente nel video di presentazione sembra di essere proiettati nel futuro. Wow! E di parlare con le case intelligenti come nei film! In realtà lo dico per esperienza, perché uso spesso la funzionalità dell'iPhone che ti permette di parlare con Siri semplicemente chiamandola, mentre il telefono è attaccato alla corrente, nessuno si abitua mai all'idea che ve ne andiate in giro per casa a dire Ehi, che tempo farà domani? Oppure Ehi, qualcosa, aspettando che la risposta della macchina arrivi. Perché per ora puoi dire solo questa roba qua, diciamoci la verità. 79 dollari, comunque. Poi, boom! Google Wi-Fi, un router super speciale, super bello che dovrebbe essere più efficiente nel gestire la linea di casa vostra e lo potete anche mettere in pausa durante il pranzo. Così, da rendere le sedute a tavola con i vostri figli ancora più brevi. Prezzo, 129 dollari. Poi c'è il nuovo Chromecast, 79 euro, che funziona benissimo con tutta sta roba. Poi, un visore per la realtà virtuale nel quale inserisci direttamente il telefono che fa da schermo ed è tutto integrato. Insomma, il punto è l'integrazione tra i device e anche avere un telefono che è come l'iPhone, sembra l'iPhone, costa come l'iPhone, ma meglio. Non ho dubbi che questo sarà il discorso fatto da molti. Così potete andare in giro a dire wow, che coglioni che siete, avete l'iPhone, ma il Pixel è meglio. Quel tipo di discussioni delle quali la nostra società ha bisogno in questo momento. Sono in realtà molto curioso di vedere se sul serio nei prossimi anni le intelligenze artificiali si evolveranno tanto da diventare minimamente utili. Perché per ora, seriamente, oltre a chiedere assidi indicazioni stradali che però mi portano in altri continenti, se domani pioverà o no, come se me ne fregasse davvero qualcosa, contando che il tempo che sono esposto alle intremperie è al massimo quello tra studio e bar e studio e casa e chiedere i risultati delle partite, va? Non mi sembra faccia molto altro oltre a dirmi che me lo cerca su Google. Grazie mille Siri, utilissimo che me lo cerchi su Google. Peccato che se te lo sto chiedendo a voce è perché non lo posso cercare io e quindi non posso leggere. Comunque, Big G sembra scommettere su questa cosa, quindi staremo a vedere. Ah, tirando in mezzo un altro grande dell'internet, Facebook, noto anche come quella compagnia che se fai una cosa figa o te la copia o ti compra. In questo caso, copia con Facebook Marketplace, un luogo magico nel quale comprare e vendere cose. Come che nessuno, a parte Craigslist, Subito, Kijiji Bay e un miliardo di altri siti ci abbia mai pensato. Comprare e vendere cose su internet è fantastico. Per ora è attivo soltanto il USA, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda. È un test. Se sei un utente di Facebook, pubblichi una foto dell'oggetto, scrivi il prezzo e una descrizione e poi ti incontri con le persone nella tua zona e, non so, comprate e vendete cose. Ma, eh, 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 Briconcelli, non potete vendere armi, droghe, animali e persone. Sarebbe un vero peccato se, approfittando della novità e dell'assenza di controllo, qualcuno se ne fosse recentemente approfittato, eh? Trovo fantastico che in questo annuncio, peraltro, il bambino sia in vendita perché il venditore dice di averne visto un altro in vendita che preferisce e si richiedono, a parte, le spese di spedizione. Lento applauso al gentiluomo, la comicità è davvero nei dettagli. Parlando d'altro, ieri c'è stato il dibattito tra wannabe vicepresidenti americani, il vice di Trump, Pence, e il vice di Clinton, Cain. E nessuno frega niente del dibattito dei vicepresidenti, nemmeno negli Stati Uniti, figuriamoci a noi, tanto più che è stato un dibattito abbastanza a fiacco, vinto a mani basse dal repubblicano Pence con buona pace di parte della stampa statunitense. Huffington, non c'è bisogno che te la prendi così. Sinceramente, non vi consiglio nemmeno di guardarlo, anche la giornalista che li ha intervistati è risultata molto sottotono e Pence che ha una compostezza che è praticamente il contrario di tutto ciò che Trump rappresenta, non ha mai perso la calma, trasmettendo sicurezza e autorevolezza. Pur dicendo un sacco di balle, di fatto negando che il buon Donald abbia detto cose che invece ha detto e fatto cose che invece ha fatto. Ma di nuovo, in questi dibattiti la sostanza non è mai troppo importante e più che altro l'idea che si riesce a trasmettere. In politica spesso gli elettori non stanno a guardare troppo i dettagli, è triste, ma è così, quanto più l'aspetto generale di vicende, campagne, candidati, lo vediamo anche in Italia. Comunque, se foste interessati a questo, ad altre cose che ho detto, link in descrizione come al solito. In ultimo, visto che parliamo di polizia, Turchia. Vi ricordate quando, poco dopo il fallito golpe, è stato dichiarato dal presidente Erdogan lo stato di emergenza nazionale che di fatto gli conferisce l'autorità di governare bypassando completamente il lavoro del Parlamento? Quindi di fatto come un monarca? Fantastico, perché quello stato di emergenza che sarebbe dovuto durare tre mesi e che è stato caratterizzato da pratiche decisamente poco democratiche delle quali abbiamo già ampiamente parlato come arresto di oppositori, giornalisti, insegnanti, militari e tutto quello che ci passa in mezzo, quello stato di emergenza temporaneo che sarebbe dovuto terminare il 19 di questo mese è stato ovviamente prorogato per altri tre mesi. Sto lasciando lo spazio per chiunque volesse dire che è la stessa cosa che sta succedendo in Italia e ormai c'è la dittatura ormai andiamo avanti con questa cosa da tipo 30 anni. Siamo in dittatura e in pratica siamo come le vostre amiche superbone che pubblicano su Facebook le proprie foto con le amiche brutte e poi si lamentano con loro di essere brutte. Ogni volta che qualcuno in Italia dice siamo in dittatura qualcun altro dalla Turchia gli dovrebbe telefonare e dargli del coglione. Per capirci, ore dopo l'annuncio 13.000 13.000 ragazzi poliziotti sono stati sospesi dal servizio 2.500 dei quali capi di polizia e altri figure importanti accusati di aver contati con Fethullah Gulen l'avversario politico di Erdogan accusato dal presidente di essere la mente dietro al tentato golpe. Non commento ulteriormente non credo ci sia bisogno. Questo eppure è tutto per oggi grazie per aver guardato Gentaglia e grazie per avermi fatto notare che ieri ho sbagliato e ho detto New York invece di Washington. Lo so sono 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 un vecchio sono sono molto distratto e comunque non ho mai le vostre foto davanti quindi questa parte delle foto continuerà a essere un casino comunque la regina di oggi è Ilaria e l'alfiere di oggi è Simone eccoli qui e la foto è scattata a Monaco dove Ilaria lavora qui potrei anche sbagliare in effetti perché tanto c'è un lago dietro di loro comunque c'è questo siete carinissimi siete al fiero e regina di oggi e grazie per la foto grazie anche a tutti voi per essere arrivati sino a qui io sono Shooter ehi sono troppo fuori dallo shot mi avvicino un po' più la grafica questo era Breaking Italy e ci vediamo domani alle 18 grazie a tutti grazie a tutti